Le domande che ci ha posto il dottor Villari io prima del suo intervento non le conoscevo, quindi adesso vedremo se in parte riuscirò a rispondere. Il professor Betta ci ha ricordato le parole dell'autorevole filosofo torinese Norberto Bobbio che diceva appunto che la riforma psichiatrica fu la riforma più radicale del dopoguerra in Italia. Può sembrare un'affermazione un pochino perentoria ma le ragioni di questa affermazione stanno nel fatto che il cambiamento fu così profondo e radicale nell'ordinamento sia normativo che istituzionale che pur riconoscendo l'enorme importanza delle altre leggi non ha riscontro, non fu una razionalizzazione, non fu neanche un aggiornamento con delle modifiche parziali, fu effettivamente un cambiamento ordinamentale e se volete anche di paradigma culturale, veramente radicale. Franco Basaglia e i suoi collaboratori sia nel luogo dove lui lavorava sia per tutta l'Italia furono degli innovatori e pensavo in maniera estremamente sintetica senza spaventarvi di così condividere con voi quattro parole. La prima appunto è innovazione. Basaglia nei suoi scritti dice chiaramente che non è possibile capire come è avvenuta questo radicale cambiamento se non si guarda al contesto sociale in cui esso si iscrive e alle forze che in questo contesto sociale agivano i movimenti per la dignità e per i diritti delle persone di cui anche le altre due leggi fanno parte, ma anche la legge precedente che era quella sugli istituti per l'infanzia, mi pare di un anno prima. E quindi il loro merito è di aver saputo leggere i bisogni di salute e la nuova modalità di presentazione della domanda da parte dei cittadini. Questo secondo me è un po' il lascito che loro ci danno. Da quegli anni ad oggi in questi decenni i bisogni di salute sono cambiati in maniera direi decisamente cambiati. E mi spiego. La diffusione del disagio psicologico relazionale è data in maniera chiara e espressa in degli studi. Cito solo lo studio del 2005 eseme che è uno studio epidemiologico su sei paesi europei tra cui l'Italia che dice che è ovviamente stato anche confermato da studi successivi che dice che una persona adulta su cinque nel corso della sua vita ha sofferto di un disagio mentale. Altri studi dicono che il 75% dei disturbi mentali sordiscono prima dei 25 anni. Altri studi, e qui ho finito, quindi i miei dati sono racchiusi in questa, dicono che nei bambini, nei ragazzini tra i 10 ai 14 anni la percentuale di disturbi mentale dell'8 e il 2% che si avvicina più o meno ai paesi europei è inferiore a quella degli Stati Uniti che è un pochino più alta. Quindi questi dati ci indicano che ovviamente tutto ciò è anche in comorbilità con situazioni di dipendenza da sostanze, da alcol, anche da gioco d'azzardo e non ultima la dipendenza da internet. Quindi il tipo di bisogni a cui noi dobbiamo rispondere è sicuramente cambiato in questi anni. Ecco questo ci consegna secondo me una necessità proprio per essere conseguenti a quello che i principi e gli ideali che ha portato alla chiusura del manicomio ci viene consegnato e cioè continuare quest'opera di innovazione. E questo credo che sia il compito che ha il servizio pubblico. Compito abbastanza arduo. Io così visto che ognuno ha ricordato un po' le proprie esperienze anche umane e professionali io mi ricordo che non eravamo tanto ben accetti nei servizi diciamo ospedalieri e negli altri servizi sanitari. È chiaro noi eravamo i rappresentanti di coloro che in qualche modo venivano visti come turbamento dello svolgersi ordinario delle attività e non solo ma se ripercorro tutti i luoghi in cui noi cercavamo di prestare la nostra assistenza professionale effettivamente molti luoghi non avevano livelli di decoro e di dignità tali da accogliere dei pazienti. Sottoscala, alloggi, luoghi all'interno dei pronto soccorsi insomma mai definiti dove accogliere un paziente psichiatrico, un triage non previsto. Cioè abbiamo effettivamente percorso una situazione di estrema difficoltà. Bene. Cosa vuol dire l'impegno a cambiare l'organizzazione? Allora, cosa è da cambiare? Ma così brevemente giusto per dare un'idea. I servizi a canna d'organo cosiddetto, cioè i servizi che si parlano poco. Noi ci occupiamo della stessa persona però abbiamo costruito dei servizi separati per degli aspetti che di fatto però sono presentati dalla stessa persona. Servizi che parlano poco, dialogano poco, si organizzano poco tra di loro, fanno difficoltà a creare i percorsi agnostico-terapeutici assistenziali condivisi. Un'altra cosa è il gigantismo istituzionale, che è riportato anche nella legge di Rindin-Manconi. Cioè questi accorpamenti continui di servizi non tengono conto che la dimensione operativa è una dimensione comunque su piccola scala ed è ben diversa dalla dimensione amministrativa e gestionale su cui non entro, ma insomma lì si può anche riscettare e discutere, ma la dimensione operativa non può essere fatta per queste enormi dimensioni che si stanno creando. È un errore di organizzazione, se volete, proprio del servizio. E questa è delle ricadute negative, ovviamente poi nel seguire la persona nel corso del tempo, secondo non solo i disturbi, ma anche l'abilità che questa persona presenta. Un esempio positivo per esempio è il cosiddetto budget individuale di salute. Questo vuol dire che tutti i vari enti, i vari servizi si mettono insieme e concorrono ad affrontare insieme quello che è i bisogni della persona di tipo clinico, ma anche di tipo sociale, relazionale e affettivo. E questo non è un'utopia. Il professor Betta ci ha ricordato questa situazione che comunque rimane di conflitto all'itra, fra una dimensione simbolico-ideale e una dimensione pragmatica dell'operare, se non riporto male le sue parole. Ecco, forse dovremmo però recuperare quella dimensione ideale-simbolica, proprio per riuscire ad operare in questo senso, di rispondere a questi bisogni. Non so, forse un pochino questa dimensione è da recuperare. Anche perché abbiamo visto che le domande di salute si pongono in modalità molto diverse. La formazione. Borgna ricordava che non si tiene abbastanza conto, la seconda parola, di quello che erano le premesse teoriche di Basaglia. Basaglia diceva semplicemente, ma una cosa semplice, che la malattia mentale nell'incontro terapeutico va messa fra parentesi, non ha mai negato la presenza della malattia mentale. E' una metodologia d'incontro con la fragilità, l'umanità, il recupero della propria storia del paziente, che permetteva poi effettivamente un recupero di abilità relazionali, sociali e anche cliniche. La psichiatria manicomiale negava tutto ciò, nel senso che era oggettivante, oltre che aveva quei fenomeni di reclusione così gravi che hanno fatto dire è l'orrore manicomiale. Quindi forse c'è una carenza, perché il rischio di un riduzionismo biofarmacologico è presente. I nostri medici, ma anche gli altri operatori sanitari, forse dovrebbero essere orientati a recuperare queste premesse teoriche di Basaglia. La terza cosa è la connessione. Abbiamo già ricordato come il contesto sociale, i movimenti per la dignità e i diritti, insomma, furono determinanti. Poi io mi ricordo un manifesto, non so, adesso non ho l'immagine, degli studenti di architettura nel dicembre del 68, che riportava, cioè il titolo era perché non costruire un ospedale psichiatrico, che riportava la lettera dei surrealisti del 1925 ai direttori del manicomio, i quali surrealisti negavano il diritto al direttore del manicomio di recludere le persone. Potete recuperarla su internet. Tra l'altro ha anche una qualità grafica molto interessante. Quindi la psichiatria, se si chiude, non va avanti, se si chiude nei suoi aspetti che poi tendono a essere riduzionistici, non può tener fede alla risposta a quei bisogni di salute, a quelle modalità di presentazione della domanda che dicevamo prima. Proprio perché il lavoro di salute mentale non è solo un agire sanitario, non è solo un atto sanitario, è un agire anche nel contesto sociale della persona, nel recupero della relazionalità di questa persona e il tutto è finalizzato all'inclusione sociale, cioè al fatto che queste persone vengono nella società. La quarta parola è le risorse. Sono nei tempi? Due minuti allora. Brevissimamente. Nel 2001 i Presidenti delle Regioni firmarono un atto solenne in cui si impegnavano a non impiegare meno del 5% del finanziamento sanitario regionale per le attività di salute mentale. Ebbene, il rapporto che prima presentava il Dottor Willer che riguarda i dati del 2015 ma nel 2016 i dati sostanzialmente si sono dimostrati, sono uguali insomma, riporta che la media nazionale è del 3,5%, il Piemonte è poco meno del 3,2%, solo due regioni, guarda caso, le province autonome di Trento e Bolzano e l'Emilia Romagna superano, l'Emilia Romagna è al 5%, cioè è precisa, insomma, le province autonome superano un po'. Poi sopra il 4% ci sono due regioni, cioè 18 regioni su 20 spendono molto meno di quello che si era stabilito nel 2001. Allora, ultima cosa, se posso concludere. Vorrei concludere con una cosa critica. Riportando le parole di Franco Rotelli. Franco Rotelli andò a lavorare nel 1971 con Basaglia a Trieste e fu un suo strettissimo collaboratore come molti di voi sanno, poi ebbe numerose incariche nella sanità pubblica, che fu intervistato da un giornalista di un noto e autorevole settimanale e lui diceva un'inchiesta, Rotelli diceva un'inchiesta, vorrei fare un'inchiesta, andare in gira e chiedere alla gente capisco che la 180 sia considerata una delle più grandi conquiste culturali del Novecento per noi psichiatri, ma per voi, il giornalista lo stimola, allora si può impazzire. La risposta di Rotelli è Sì, perché il rischio della sofferenza di diventare matti c'è in tutti noi e vorremmo però restare persone nella sofferenza.